Sarà fissata nei prossimi giorni l'udienza preliminare nei confronti di Don Contin, ex parroco della chiesa di San Lazzaro a Padova. L'uomo al centro di uno scandalo a luci rosse potrebbe arrivare ad un patteggiamento, come riporta il mattino di Padova, con un anno di reclusione, pena sospesa e un risarcimento nei confronti dell'ex amante. L'ultima parola però spetterà al giudice. L'ex don, ora sospeso dal sacerdozio, era finito al centro di uno scandalo vergognoso. Aveva rapporti con diverse parrocchiane, ma gli incontri non avevano limiti, tanto che è emerso un contorno fatto di orge che si svolgevano addirittura in canonica. Gli investigatori hanno portato alla luce particolari sconvolgenti. L'accusa nei confronti di Contin sono violenza, lesioni e minacce nei confronti dell'ex amante, donna che dopo aver subito tutte le sue angherie ha avuto il coraggio di denunciare tutto.